Buongiorno, per un momento... Marcolina, eccezionale e esclusiva, Blogging Dance Floor, signore e signori, Michael Jackson! Viennese, it's a great time, thank you. It's cool. Tutta Milano e tutta Italia stanno aspettando che si è molto bello con lui. Spesso sui nostri schermi io direi che qualche domanda vero, Luciano, poi so che c'è qualche cosa che mi riguarda. Allora, Luciano, cosa vi unisce? Non c'è una cosa che unisce loro due. Do you want to say it? Do you want to say what he is on there? What we are here for? What we are here for? Yeah. What you and Luciano are going to do together? Do you want to say it? Oh, of course. It's been our dream for a long time to do something for the children of the world. It's been my passion and it's been his passion. I love you, Michael! Dice che è stato un desiderio di Luciano e di Michael di fare qualche cosa per gli altri, insieme, per i bambini del mondo. Ne abbiamo parlato sempre, adesso lui mi sorprende a dirlo così, mi fa molto piacere. e questo sogno è diventato poi il progetto che loro hanno portato avanti per molto tempo di cantare insieme e mettere insieme anche un gruppo di star per fare qualche cosa con loro due e raccogliere fondi per tutti i bambini bisognosi. Lui verrà il 17 da te. Are you going to be together in Modena on the 17th of June? Do you want to do that announcement? Oh, yes. There is another announcement. E poi il 18, il 18 giugno sarà in San Siro. You're going to be here in Milan. You're going to sing here in Milan, right? Yes, a concert here in San Siro, in Milan. Il 18 giugno sarà qui a Milano a San Siro per un concerto che vedrà, io credo, gente da tutte le parti d'Italia per applaudire Michael Jackson. Ma cosa da dirci, Michael? cosa da dirci? Well, the three tenors on the 17th of June in Modena and I wanted to join them. Dice che sarà seduto in prima fila al concerto dei tre tenori il giorno 17 di giugno a Modena. Thank you very much for the great gift. Tanto lo mettiamo in prima fila. Tanto lo mettiamo in prima fila. Tanto lo mettiamo. È una cosa meravigliosa. È Michael Jackson e questa sera you're here also to present an award to a very important category through the best show of the year and we're very proud of that. Lui è qui anche per dare il premio il pregatto alla migliore trasmissione dell'anno. Benissimo. E questa è una cosa che ci onora moltissimo e onorerà in maniera particolare la migliore trasmissione dell'anno che è la busta la busta la busta la busta lo diciamo se non c'è bisogno. Non c'è nomination se non c'è animami Luciano Pavarotti Michael Jackson un momento indimenticabile grazie Luciano ci vediamo il 17 a Modena dai non so se che momento guarda incredibile finalmente finalmente siamo a casa siamo soli non so non so se basta per dire che ho conosciuto Michael Jackson ma insomma comunque mi fa piacere voi